Università Roma 3 ha deciso di intitolare 12 aule dell'Ateneo ad altrettante vittime innocenti delle mafie, un gesto simbolico, una memoria incancellabile e un impegno tangibile per ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita a causa di un crimine vile e spietato. L'iniziativa Roma 3 contro le mafie sarà presentata lunedì 18 marzo alle 15 con un evento che si terrà all'aula magna del rettorato in via Ostiense 133. Dopo i saluti istituzionali affidati al rettore Massimiliano Fiorucci e al direttore generale Alberto Attanasio e l'introduzione della professoressa Annalisa Tota, proretrice vicaria, interverranno Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Vincenza Rando, senatrice della Repubblica italiana e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, poi Nando Dalla Chiesa, presidente della Società Scientifica Italiana di Studi su mafia e antimafia e presidente onorario di Libera Paolo Borrometi, condirettore dell'Agenzia giornalistica italiana e la studentessa di Roma 3 Vittoria Podo. Cordinerà l'incontro al professor Marco Catarci, prorettore alla terza missione. Con questo spirito Roma 3 aderisce dando il proprio patrocinio alla 29esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, iniziativa organizzata a Roma per il 21 marzo 2024 da Libera.